Ciao ragazzi sono Crax, bentornati nel canale, siamo tornati su Clash Royale e oggi dopo tantissime promesse finalmente vi porto il mazzo, il mio mazzo dopo il bilanciamento Lo so sono passate due settimane però meglio tardi che mai Siamo tornati nel mio account e si oggi essendo lunedì doveva esserci, sarebbe dovuto uscire un episodio della scalata purtroppo insieme a Franci Purtroppo non ce l'abbiamo fatta sia per motivi di tempo sia perché Franci sta ancora un po' scossa dopo l'incidente Ha qualche dolore interno e gli fa male la schiena, non riesce a stare a lungo sulla sedia seduta quindi abbiamo deciso di rimandarlo, di posticipare Probabilmente lo porterò se riesco sabato però ho bisogno del vostro supporto assolutamente Arriviamo in questo video a 10.000 like, lo so che ce la potete fare, grazie a tutti per il supporto Sabato sarà l'episodio quello 2 contro 1, io e Franci sullo stesso dispositivo contro un altro player Cercheremo di arrivare a 3.000 coppie in quel modo, sarà uno spettacolo Detto questo siamo nel mio account, siamo a 4.025 coppie in questa stagione e non riesco a salire, è un disastro totale È un miracolo che sono a queste coppie perché trovo solamente player con comuni di livello 12, mi sono beccato anche dei giganti royal di livello 13 Il 70% dei mazzi è composto da giganti royal e barbari scelti, sono tornati alla carica Sti maledetti li odio, sono troppo forti, sono ancora forti Però è la stagione in cui mi sto divertendo di più con questo mazzo Ragazzi è libidine pura, è spettacolare, per quale motivo? Perché con questo costo basso a 2.9 riesco a spawnare doma jump uno dopo l'altro velocissimi Non diamo neanche il tempo al nostro avversario di difendersi, però è un mazzo molto difficile da utilizzare Se non sapete difendervi bene con lo spiritello, gli scheletrini e il golem di ghiaccio evitatelo Utilizzate il mio vecchio mazzo che è molto più facile In realtà questo mazzo ha subito delle modifiche rispetto al mazzo più utilizzato con il domatore Ovvero quello a costo 2.6 con il cannone al posto della torre infernale e la tronco al posto della zap Per quale motivo ho fatto queste modifiche? Molto semplicemente perché il cannone non riesco ad utilizzarlo L'ho puruppato a livello 10 ma non mi ci trovo, mi sa troppo fragile Contro i mastini devi fare un miracolo per difenderti Mentre contro i giganti devi essere bravissimo a deviare le truppe dietro, cioè le combo del gigante con il golem di ghiaccio Allo stesso tempo piazzare un moschettiere, lasciate perdere Con la torre infernale è tutto molto più stabile però perdo dell'elisir perché il cannone costa 3 e la torre infernale costa 5 Per quale motivo invece ho messo la zap al posto della tronco? Molto semplicemente perché ai vertici della classifica ci sono i maxati E è presente molto spesso il barile goblin a livello max, a livello 8 Il barile goblin maxato non può essere counterato da una zap E quindi i player preferiscono una tronco che pulisce tutto piuttosto che frizzarli con la zap e lasciarli ad un peletto di vita Non ha assolutamente senso, mentre qui a 4000 coppe non essendoci sicuramente i barili maxati Quindi preferisco una zap molto più dinamica che vado a zappare magari anche sia la torre infernale sia gli scheletrini Lorda di scheletri Questo quindi è il mio mazzo, lo alterno come vi ho detto all'altro ma mi trovo molto bene ed è molto molto divertente Andiamo a giocarlo, cerchiamo di fare qualche battaglia buona, vorrei fare almeno un paio di vittorie In live ma non è detto perché siamo già subito contro un giappocininja Per fortuna è il livello 10 quindi non ci lamentiamo Mano abbastanza buona per prendere tempo, metto un moschettiere a sinistra subito il golem di livello 5 così proprio lo butta al volo Guardate come andiamo a trovare il domatore, purtroppo non lo sto trovando Eccolo qua, partiamo subito con un bellino No, a parte ragazzi è di livello 6 Ma è di livello 6 il golem, ma è di livello 6 pure No vabbè non ci credo Per fortuna però abbiamo il domatore a torre Ha utilizzato la fulmina e quindi l'inferno dovrebbe deviare il tutto Dai inferno, bruciacchiano, non puoi avere pure la zap Non puoi avere assolutamente pure la zap Dammi di nuovo subito il moschettiere Guardate ragazzi come siamo partiti violenti Una cattiveria inaudita Potrei anche aspettare a questo punto Sì, aspettiamo, aspettiamo Anzi facciamo così, ripartiamo al volo Guardate i doma jump come partono Guardate, io piazzo tutte le truppette E via, si riparte, si riparte per fortuna Stavolta abbiamo una bellissima rotazione E ovviamente Zappa, zappa Sì, bella sta zap, bella sta zap Abbiamo preso la torre Ottimo così Subito una torre presa Devo piazzare immediatamente il moschettiere Perché il mini pecca Fa un male clamoroso Moschettiere lo metterei Sempre sulla sinistra Sì, almeno stiamo tranquilli E vi diamo fail Brutti, brutti, brutti Fail Ok, ok, ok Mettiamo subito l'inferno Prepariamoci la fireball Perché sicuramente avrà No, non ce l'ha Metti gli sgherretti Voglio gli sgherretti Ti prego prosciucalo, prosciucalo Sì, l'abbiamo prosciucato Ottimo così con l'em di ghiaccio Vabbè, adesso la metti Non ci credo Mettiamo gli scheletrini E sblocchiamo subito Il moschettiere Che partenza ottima Ragazzi Partenza fenomenale Dai, dammi il domatore Dammi il mana E ripartiamo con un altro doma jump Così, proprio free Dammi doma jump Utilizziamo la zap Per gli scheletrini Che li metterà Non mette gli scheletrini Mette un mini pecca Ed ecco gli scheletrini Li zappiamo E il moschettiere ci fa fuori Anche il mini pecca E ci fa probabilmente due hit Uno e due Mamma mia Io faccio lo strafottente Guardate un po' qua Che cosa fa Grax Che rischio ragazzi Che rischio Spero di non aver fatto La stronzata dell'anno Spero proprio di no 30 secondi Mette un golem di ghiaccio Ovviamente Ha la fireball Pure la fireball No, non ci credo Altra torre infernale Altra fireball 19 secondi Dobbiamo solamente difenderci Zap tatticissima Per uccidere tutti gli scheletrini E se veramente Andiamo a filare Per la stronzata che ho fatto Della torre infernale Al centro Sono un pollo Ma è andata bene Bravo Grax Bravo Grax Ce lo potevamo permettere 4 secondi Abbiamo chiuso la prima partita Con una bella vittoria Fantastico Ottimo così C'è andata bene Non lo dite a nessuno Silver chest Mi sono dimenticato di dirvi Che tra pochissime casse Dropperò un'altra magical chest E si lo faremo Questo chest opening Con 4 magiche Siamo subito ripartiti Ho subito una bella mano Purtroppo Guardate La perfezione del mio Doma jump Esemplare Il domatore però Fa torre Oh my god Eccoli qua Lo sapevo Eccoli qua Dammi subito il golem di ghiaccio L'ho messo bene Che fortuna Che fortuna Che fortuna Non provi perché il moschettiere Sta messo piuttosto male Chaos ragazzi Spiritello Vabbè Quello di sinistra L'abbiamo fatto Quello si Si di sinistra fatto fuori Quello di destra farà Probabilmente 2 o 3 hit Abbiamo il domatore però Dall'altra parte Ottimo 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 Poteva andarci Molto molto peggio E abbiamo la torre Dell'avversario a 1196 Golem di ghiaccio Tatticissimo Io andrei con una bella torre infernale Per ucciderlo immediatamente E via quegli scheletrini Per farlo fuori Va bene Va bene Ho sprecato forse anche troppo L'isir Però dobbiamo stare calmi Capanna dei goblin Questa è una brutta partita Questa è molto molto difficile Aspettiamo un po' di mana Piazziamo ora proprio Il moschettiere E quella capanna Mi dà fastidio Il golem di ghiaccio Non lo posso piazzare Mandano a fireball Ti prego Non me lo dire Vabbè Non ci credo È arrivata la freccia Come non detto Andiamo a questo punto Con il domatore Lo mandiamo trasversale così Per distruggere subito la capannetta Dai Vai Grande domatore Utilizziamo anche la fireball Bella Prendiamo anche il moschettiere Molto bene Molto bene Purtroppo non facciamo un hit Vai moschettiere Vai davanti Moschettiere vai davanti Mai nella tua vita Quindi immediato No 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 Il barbariceltino Ti prego Il barbariceltino Ti prego Devo zappare Zappiamo il moschettiere Ci ha preso la torre Praticamente ci ha preso la torre Però Va bene Dai La torre dell'avversario sta ancora a 945 Manda anche una tronco Che non ha colpito la torre Mette una valchiria E metto la mia torre infernale Se riesco a vincere questa battaglia Siamo a cavallo Provo a fare No Oh mio dio ragazzi Se n'è andato Oh mio dio Se n'è andato Non ci credo Non ci credo Lo scacco matto Lo scacco matto Ma come Ha perso la connessione Dio di Ti amo Dio ti amo Che regalo ragazzi Era persa Probabilmente era persa Grazie Dio di clash Royale Io ti amo Guardate come ci divertiamo ora Vedete che effetto Che fa questo mazzo No vabbè Cioè Vi rendete conto Come ho mandato il domatore Grax maledetto Manda una fireball No vabbè Cioè No le voglio fare Tre corone però Le voglio fare Dai sette secondi Sì domatore tagli un hit Bam Ciao Tornatore corona zero Mamma mia Il gameplay dell'anno 29 trofei Andiamo a fare l'ultima battaglia Se facciamo 3 su 3 Arriviamo a 4100 Non lo so Non lo so GG Siamo contro GG Un salutone Però questo è canadese È un po' diverso No 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 Subito barbariscelti Non te lo puoi permettere Barbariscelti di livello 12 Geliamoli E via con gli scheletrini Va bene Va bene Va bene Va bene Fatto fuori Io ripartirei Ripartirei Con un domatore sulla sinistra Andiamo alla torre Io zappo gli sgherri Purtroppo è un problema Perché questo è il livello 12 Con un domatore Ma dove la No vabbè Non ci credo C'è il matchmaking Ragazzi Il matchmaking Vorrei solamente farvi presente Il matchmaking Questo è il livello 12 E potete ben capire Che cosa si trova ora 4100 No domatore specchiato di livello Di mi sento male Io mi sento male Mi sento male Zappiamo sti scheletri maledetti Dagli domatore ho fatto solo un hit Due hit extra Però la mia torre di destra È praticamente presa Cioè questa battaglia Non sa da fare Andava tutto bene Tutto benissimo Guardate come ci stiamo ritrovando In questa battaglia Ha preso pure il moschettiere Pensavo l'avesse felato Ed ora voglio qui Grax Grax ora ti voglio No 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 Vai a sinistra Come l'ho messa la torre inferiore Ragazzi mi sto sentendo male Provo a ripartire con un domajump Molto tattico Vai domatore Vai domatore Vai dritto Vai dritto Domatore va dritto Domatore va dritto Abbiamo No 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 maledetti No maledetti No 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 Sono troppo forti Sono troppo Ma come mi difendo Vorrei sapere Che pezze che danno A livello 12 Ma di che stiamo parlando Ma non si vergogna un pochetto Gigi dai Non pensavo fossi così forte Cosa vuole fare Con tutta sta roba Non lo so Spero di prendergli la torre Quanto lo swag Uccidiamo subito il domatore Un'altra fornace E gain Vado con un domatore trasversale E spero di fare l'impossibile Non lo faremo mai Corri zappali tutti Ma dove l'ho messa Dove l'ho messa Ma guardate che mazzo Con lo specchio Fa paura No eccoli qua Eccoli qua Subito lo spiritello Da st'altra parte Per farli deviare E via anche con gli scheletrini No 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 Cioè è scoppiato il golem di ghiaccio E non l'ho fatto fuori Mi prendo tre corone Però ci sta dopo il reggiguit di prima Ciao Bravo Grax Che gameplay assurdo Comunque due l'abbiamo vinte E sono più che contento Più che felice Molto bene Grax contro Gigi 3 a 1 In realtà Gigi contro Grax 3 a 1 Il consiglio che vi do È di utilizzare questo mazzo Se vi piacciono I deck Veloci E dinamici Questo è veramente il top Fatemi sapere come vi troverete Secondo me è il migliore Con il domatore E probabilmente potete anche provare Quello con Il cannone Che è ancora meglio Vi ricordo come sempre Lasciate un pollicione in su Noi ci vediamo Giovedì con Clash Royale Mentre mercoledì con Clash of Clans Un saluto nella Grax Al prossimo video Ciao una a tutti